Allora, uno, due, tre... 13%! Hola gente, sono Wallflower e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo in compagnia di Charlie Moon, che nessuno conosce, vattene. Questa cattiveria. Allora, prima di tutto volevo ringraziarvi per i numerosi commenti, per tutte le cose che avete scritto, su Instagram, no, su Telegram posso scrivere solo io. Vabbè, sembrano... Hai visto il telegiornale? Eh, quello lo sto facendo. Io stavo traducendo per i non udenti. Vai. Per i non vedenti? I non udenti? Ah, dicevo io, non ho senso, se non possono vedere che... Ok, noi siamo in Londra mentre vi vedete questo video, anche se adesso noi siamo in camera di Charlie, perché oggi non so che giorno è oggi, che giorno è venerdì, mi sa sì, perché andremo a vedere un film bellissimo che aspettiamo da tutto tempo, che io non sapevo nemmeno che dovesse uscire. Bene, iniziamo con la challenge. La challenge è... non so se in realtà come si chiama, cioè le parole al contrario. Challenge. Challenge. Noi dobbiamo dire... cioè io dico una parola bene, lei la deve dire al contrario, la registro, la mettiamo al contrario e vediamo se è giusta. Vediamo. La mia parola è... Pretina. Quello che sei tu, praticamente. No. Allora. Ok, ti devo registrare. Hai, mi sa, o tre secondi o cinque secondi di tempo per riuscire a dirlo intanto. Eh vabbè. Ah, ah... Antrik. Sicura? No. Sentiamo. Irna. Non credo ti abbia detto che ritrova. Albertina. Antrik, ho detto. Che ho detto? Mi sa... Antrik. Perché antrik? Non è antrik. E' anii... Terk. No, perché è... E' aniterk. Perché con la E è aniterk? Cretina. Aniterk, scusami. Vabbè, ci sono gli amici di antrik, aniterk. Antrik. Non cambia tantissimo. Ok, allora tu devi dire una cosa che devo dire io. Micropono. Allora, microfono, micro... Devi registrare tu perché non so come funziona. Ehm, no... E' difficile. Microfono, onoff... I... No. Non lo so. Ma qua pure ho evitato di... Avevo pure evitato di registrare già, ho messo troppo tempo. Oh no, oh no, forbi... E' semplice. Oh no, oh no, forbi... Oh no. Staccavo se si dica... Eh? No. No, direi che non va bene. Ok, vai, tocca a te. Ok, allora, un'altra parola. Ma io le faccio facili. Beh, fesse. Cretina sarà facile, antrik. Papa l'americano Ti muovi? Forzuto 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 O2 Forz O2 Ro O Fentiamo Ma non si capisce un cazzo da questa applicazione Scusami Facciamo prima scrivere la parola e vedere se l'abbiamo scritta bene, scusa Ok aspetta, ripetiamo Sembra una gara di spelling Forzuto Forzuto Utoz Utoz Ro Si peccato di vista con la o Otoro Hai detto utozro Invece otuzro Hai sbagliato Sei quasi arrivata Dai che abbiamo poco tempo con la parola Dai questo è abbastanza semplice Scarpa Scarpa E Prax Brava La prima che siamo usciti a indovinare Vai Dolore 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 Erolod Brava Ok vai Veloce Macchinetta Si Macchinetta Macchinetta Atenicam Brava Brava Complimenti Vai Buzurra 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 Aru Buzurra Aru Stiamo portando il tempo Zub Aru Sì bravissimo Ma sono troppo facili adesso Eh Buzurra non è facile Dario Lampa Lampa Dario No no Dario Lampa Ma non è tutta una parola Eh ma troppo lungo è difficile E' il boss finale questo Eh si è tua sorella il boss finale Allora Dario Lampa Lampa E Am E A Apml Apmall Dario e Oirad Si però lo devi dire tutto insieme Mi sa già dimenticata Mi dispiace non vale vai tocca a te Rino Manda Rino Manda Rino Manda Eh Manda Cosa lo faccio Vai Rino Manda 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 And And Mar Inor No Hai forse pure il tuo boss finale E comunque io sono stata più brava quindi vinco io Va bene No ho scaricato batteria Eh muoviti Ci vediamo tutti nel prossimo video perchè questo è stato bellissimo Si paga uno schiaffo perchè ha perso E quindi ci vediamo nel prossimo video adesso si sta per spendere la macchinetta E quindi mettiti tanti like Ma non ci vediamo nessuna parte che ho dovuto prendere uno schiaffo Non ci vediamo adesso nel prossimo video lasciate tanti commenti e tanti like Dovremmo accordarci su questo Ciao Dovremmo accordarci su queste punizioni prima